L'Abruzzo punta sulla vaccinazione dei giovani con open day e corridoi preferenziali per spingere la campagna vaccinale degli adolescenti. I numeri nel capoluogo sono già incoraggianti, l'ASD dell'Aquila ha attivato un doppio canale e mail direttamente a loro entro le 17 per avere il vaccino il giorno dopo e fascia oraria con accesso libero per i ragazzi dai 12 ai 18 anni dalle 10 alle 13, modalità questa attiva da ieri. Le scorte di vaccino moderna sono notevoli, per cui negli hub vaccinali si stanno vaccinando senza prenotazione oltre agli studenti, anche insegnanti e ultrasettantenni ancora senza vaccino. In Abruzzo sono oltre 43 mila gli adolescenti ad oggi che non hanno ricevuto neanche una dose, una percentuale quasi doppia rispetto alla fascia 20-29 che sta per toccare quota 70 mila con doppia dose. C'è anche da dire che la campagna riservata ai giovanissimi è partita da poco e non si possono ancora tirare le somme, ma i numeri fanno ben sperare. Per quel che riguarda l'Aquila ad esempio, ieri nel primo giorno senza prenotazione per i ragazzi sono stati 25 vaccinati e ancora questa mattina c'erano molti adolescenti in fila nel centro di San Vittorino. Noi anche nelle settimane precedenti abbiamo avuto un buon flusso di persone che si sono prenotate per la vaccinazione. Inoltre dal 16 agosto è possibile avere anche accesso libero dalle 10 alle ore 13 per la vaccinazione di questa fascia di età. Loro vedono nella vaccinazione la speranza di tornare ad avere una vita normale e quindi lo chiedono loro ai loro genitori di poter accedere. Abbiamo dato la disposizione di fino a 25 vaccinazioni, ma possiamo fare anche di più. Già da ieri, il 16 agosto, abbiamo avuto un flusso di circa 25 persone arrivate con questa modalità. Quindi speriamo a breve di raggiungere anche per loro le coperture ottimali e permettere di tornare a scuola più sereni possibile. C'è uno zoccolo duro poi di persone incerte che non sono propriamente Novax, ma stanno aspettando. La Pasani si invita a contattare la ASLA perché loro sono disponibili anche per delle consulenze e per spiegare tutto con calma e professionalità. Noi consigliamo a tutte queste persone che ancora non hanno fatto la prenotazione per la vaccinazione di procedere al più breve tempo possibile. La prenotazione non è vincolante, quindi noi invitiamo a prendere comunque possesso di questa prenotazione, presentarsi in modo da poter avere un colloquio con un medico in libertà, non vincolante e capire davvero avere tutti gli elementi da mettere in barlo per la decisione perché non basta avere dei pregiudizi. La vaccinazione è anche emotività, quindi la scelta razionale e consapevole va guidata alla luce di quelle che sono le evidenze scientifiche attuali e i potenziali reali rischi e benefici della vaccinazione. Quindi aspettiamo tutti.